buonasera a tutti orchetti sono orcu verde in questo video volevo informarvi che gli sviluppatori di gioco hanno annunciato un nuovo eroe che sarà presente nella stagione 4 su fortnite prima di iniziare vi invito tutti quanti a seguirmi su instagram sulla pagina facebook e sul canale telegram e se volete entrate anche nel gruppo telegram per parlare insieme trovate tutti i link in descrizione e a lasciare un bel mi piace al video grazie a tutti quelli che lo faranno e iniziamo subito poco fa sul proprio account twitter il team di fortnite ha pubblicato questo post con scritto combatti con onore stagione 4 prossimamente rilasciando anche questa immagine dove si può vedere un altro eroe dell'immagine rilasciata ieri quando avevano annunciato il tema della stagione 4 l'eroe che c'è a destra dell'immagine trattasi di batman mentre l'altro eroe trattasi di wonder woman per cui al momento sappiamo che negli eroi saranno presenti batman e wonder woman poi sicuramente saranno presenti molti altri eroi nella stagione 4 però al momento come conferma da parte del team di fortnite e sviluppatori di gioco sappiamo che come eroi ci saranno sicuramente batman e wonder woman se ci saranno altre informazioni notizie e novità riguardo ciò ve le porterò sempre sul canale quindi niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un bel pollice in in su lasciate un commento iscrivetevi al canale condividete il video seguitemi sui social sulla pagina facebook su instagram e sul canale telegram e se volete entrate anche nel gruppo telegram per parlare insieme trovate tutti i link in descrizione e da orcoverde tutto noi ci vediamo al prossimo video bella ciao ciao